un cappello faccio schifo questo cappellino mi sembra un un sediar killer comunque volevo dire a parte gli scherzi buon natale, buon capodanno saluto a tutti quanti i box di EDNC, Shuren comunque tutti quanti di Falcus, di Anime Manga Ita tutti i membri di Anime Manga Ita tutti i membri di LNC della pagina Facebook sia del canale saluto a Ezolax saluto Mattia De Luca che sarebbe quello di NGR auguri a Alessio Becconi che è un amico con cui parlo su Skype cioè su Steam poi a Oswi che è un mio amico che con cui stiamo facendo stiamo lavorando su un server e le luci si accendono però vabbè meglio non spegnere la luce se non ho la qualità diventa una merda sì ho un mal di gola quindi scusatemi se ho un mal di gola io purtroppo il capodanno e le feste diciamo non le festeggio cioè a parte il Natale che ho tutti i miei parenti tutto il resto fino a capodanno io lavoro quindi non avrò molto tempo per festeggiare a meno che non festeggio a capodanno a lavoro però non esco non vado in giro mettiamo le sopracciglia perché non si vedono le sopracciglia ed è brutto ok ho il singhiozzo perché ho mangiato veloce comunque ringrazio cioè dico buon Natale a Francesca Lameglio a Giulia a Spiderman 5717 85 Ago tutti quelli che mi seguono sul canale vi dico auguri non me li ricordo a memoria quindi vi ringrazio perché mi state seguendo quindi siamo già un anno diciamo che mi state seguendo che mi sopportate anche a capodanno ci saranno vabbè non cambieranno i video ci saranno a capodanno se riesco a caricare alcuni video prima di capodanno è meglio e se riesco farò un video anche dove dirò buon capodanno comunque vi dico buon capodanno adesso però se ci riesco farò un video dove vi dirò buon 2014 appunto quindi dopo questo video il cappellino eccolo qua vi saluto e ci vediamo in un prossimo video che sicuramente sarà il 26 credo che caricherò amnesia perché vi mancava amnesia quindi volevo darvi questo video nuovo di amnesia perché me l'avete chiesto quando uscirà amnesia e allora ho voluto di continuare il video vi dico che i prossimi video che farò di amnesia ci sarà molto spesso piggi quindi mi cagherò in mano mi dispiace ok quindi ragazzi per questo video è tutto un saluto da Bayon Community ciao a tutti ciao a tutti